Per prima cosa faccio cuocere in acqua bollente salata 300 g di riso originario. Ora che è cotto lascio scolare per bene e trasferisco in una terrina. Allargo per farlo raffreddare velocemente. Quindi unisco del prezzemolo tritato finemente, aggiungo 60 g di formaggio grattugiato tipo grana e 30 g di formaggio pecorino. Unisco una noce di burro e due uova medie. Mescolo fino ad amalgamare per bene tutti gli ingredienti. Con le mani leggermente bagnate con dell'acqua prelevo un pochino di riso. Quindi appiattisco nelle mani e per rendere le crocchette ripiene e affinanti aggiungo un pezzettino di provola. Quindi chiudo a formare le crocchette. Man mano trasferisco le crocchette su un piatto da portata. Quindi bagno nuovamente le mani nell'acqua. Procedo realizzando le altre crocchette fino al termine di tutti gli ingredienti. Friggo le crocchette in olio di semi ben caldo. Le rigiro un paio di volte fino a farle diventare dorate. Dopodiché rimuovo dal fuoco e lascio scolare l'ultimo eccesso su della carta assorbente. Procedo friggendo le restanti crocchette. Ed ecco qua miei carissimi amici le crocchette di riso alla calabrese. Ma che bontà! Sono davvero speciali e possono essere preparate anche tonde. Si possono cuocere anche in forno a 190 gradi per circa 15 minuti. Provatele queste crocchette perché sono sicurissima vi piaceranno molto. Grazie!